Con un colpo solo lo spendo. Tu che cazzo riprendi, eh? Ma lo sapete quando 50 anni e 60 anni vi trovo io? Ma che mi menta, dimmelo. Guarda che giocare online è matematica, è statistica pura. Viviamo in un mondo feroce, andiamo alla velocità della luce. Possiamo fare tutto. Certo, abbiamo tutti paura. Un cast d'eccezione in un film che nasconde tutte le insidie del web. Prego, non mettere in mezzo le mie famiglie. Non puoi mettere in mezzo la mia famiglia, hai capito? Ciao, sono Sandro e sono una checca. Avanti, dillo. Mi chiamo Sandro e sono una checca. Don Luciano, fuori, sono scritto bruttissimo. Per quanto mi riguarda potrebbe essere davvero un pedofilo. Un'ultima possibilità, lo sbanco col sito di merda. Ricco di colpi di scena, ti trascina in un mondo virtuale dove ognuno di noi è una vittima inconsapevole. È tutto lì, tutto filmato lì dentro. Bacia l'asfalto. Bacia l'asfalto, Pinocchio. Cosa sta succedendo? Grazie. 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 Grazie.